Cari testi fioriti, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica video che oggi non è dedicata a quello che pensate, ovvero è l'8 marzo. Non mi voglio dedicare però alle donne, non voglio dedicarmi ai, come posso dire, alla lotta femminista perché quella si fa tutti i giorni e si vive secondo un modo di essere e insomma non abbiamo bisogno dell'8 marzo o meglio un po' come per il giorno della memoria mi piacerebbe bypassare e occuparmene tutti gli altri giorni e quindi ho scelto un taglio particolare che è quello di dedicare questo video agli personaggi femminili della letteratura facendo però una selezione di questo tipo qua. Uno sono stata dentro la narrativa per ragazzi e ragazze quindi altina di età sono tutti romanzi. Avrei potuto fare un'altra scelta ma ho preso questa. Due che è la cosa che mi interessa di più, non ci sono storie vere, non mi interessano role models di tipo vero, non ci sono biografie, ce ne sono di bellissime, ci ho lavorato tanto, c'è anche una mostra che gira ma non è questa la giornata delle biografie di non fiction e poi non ci sono e questa è la cosa a cui tengo di più in assoluto, non ci sono eroine perché non è possibile che se una donna deve dimostrare la sua forza deve combattere contro l'umanità, insomma non la credo questa cosa, credo che sia falsa nel senso ci sono le eroine, vorrei che non ci fossero, ecco questo è il mio pensiero, vorrei che non ci fossero, su questo sono proprio come Galileo di Brecht, beato il paese che non ha bisogno di eroi e vorrei che non avessimo bisogno di protagoniste eroine femminili per dire quanto può essere forte una donna, quindi ho scelto delle protagoniste sostanzialmente ragazze, ragazzine, giovanissime donne, qualunque mi viene da dire, proprio qualunque perché la loro forza sta nell'essere un personaggio costruito alla grande, costruito in maniera psicologicamente complessa, un personaggio articolato che ci porta dentro le narrazioni un giorno magari mi dedicherò, dedicherò un video specifico alla costruzione del personaggio e che non ha delle caratteristiche eclatantemente straordinarie se non il fatto di avere la propria identità da tirare fuori e da regalarci, quindi parto, va bene, è una carrellata piuttosto lunga vedrete che ho fatto delle scelte assolutamente diverse le une dalle altre, ma insomma è andata così, prendete questo video così, per me l'importante era questo, scegliere personaggi femminili fuori dalla tradizione, anche dalla grandissima tradizione, non sto, come dire, non sto rinnegando nulla, anzi però vorrei qui dedicarmi a personaggi femminili non eroici e non reali, cioè pura narrazione grandissima in cui semplicemente il personaggio è femminile invece che maschile. Allora parto da tre serie, tre serie che secondo me hanno fatto la differenza della letteratura per ragazzine e ragazzini e ragazze e ragazzi, questi tre personaggi sono la Madlief di Hus Hayer, questo dovrebbe essere l'ultimo della serie, edito da Camelo Zampa, sempre del grandissimo Hus Hayer, questo è Pollicky, questo è La poesia sei tu, ma insomma è una serie che comprende una serie di romanzi bellissimi e poi invece di Lois Lowry questa è Anastasia, questo è l'ultimo libro finora pubblicato in Italia, usciranno gli altri per 21 lettere, Anastasia fermoposta, ho preso a livello simbolico diciamo l'ultimo della serie per il momento pubblicata. Quindi tre personaggi seriali, il personaggio seriale ha delle sue caratteristiche, il fatto che siano ragazzine che crescono le rende grandiose. Segnalo, non ce l'ho tra le mani, anche una serie bellissima di Beverly Clearly che è quella di Bisous Ramona, o meglio la serie di Ramona che cresce con sua sorella Beatrice, edita dal Barbagianni, ma qui ho tenuto una fascia d'età un po' più altina. Poi vado con Le quattro sorelle, eccolo qua, questa è la tetralogia pubblicata da Pension Lepicca, abbiamo ovviamente Genevieve, Bettina, Hortense e Enid che è stata la prima, questa è una saga familiare in versione tutta femminile, divisa a seconda della sorella protagonista, anche se vi lascio le recensioni perché la costruzione di queste storie è veramente complessa. Vado avanti velocemente, questo è Melody, Melody un romanzo ormai iper conosciuto, la protagonista ha una gravissima disabilità fisica ma non psichica e quindi la sua straordinarietà sta nel provare a tenere insieme il corpo e la mente, cosa che a livello fisico non è tanto possibile, ma a livello narrativo diventa strepitoso. Poi vado avanti con Stiamo bene così, edito da Il Castoro nella collana Hotspot, qua ci sono due personaggi femminili molto interessanti, quello portante è sicuramente il più ricco forse o almeno il più articolato dal punto di vista della costruzione narrativa, è lei che muove sostanzialmente la narrazione, un romanzo che ha una scoperta di sé, l'ho recensito mi pare in un innaffiatoio. Poi vado avanti con l'ultimo romanzo di Chiara Carminati, Nella Tua Pelle, che ha diversi protagonisti, però c'è la protagonista principale Giovanna che è veramente trainante, la troviamo da piccolina, la seguiamo fino a quando diventa grande. Lei è una figlia della guerra, quindi una bambina abbandonata che non conosce la madre, non sa chi sia il padre, una specie di orfana, ma sono orfani speciali i figli della guerra e vi lascio scoprirli nella recensione. Anche lei è una bambina che cresce, vive della sua identità che costruisce nel tempo e riesce a modificare il mondo che è attorno, ma a partire da elementi che non sono assolutamente né eroici né straordinari, fanno parte di ciò che possiamo essere normalmente nella vita. Vado avanti con La ragazza della luce di Anna Vols, questo è un romanzo storico ambientato a Londra durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, anche di questo vi lascio la recensione. C'è più di un personaggio femminile, ma quello portante è fortissimo. Mi piace tantissimo la scrittura di Anna Vols, tutti i suoi romanzi ruotano attorno a figure femminile strepitose. Ho scelto questo perché in ordine di tempo dovrebbe essere l'ultimo pubblicato in Italia, ma lei è una grandissima scrittrice di personaggi femminili. Vado avanti con questo romanzo particolarissimo, Rose fuori dal mondo, anche di questo vi lascio la recensione. Qui c'è un personaggio femminile che salva la famiglia, tra virgolette, in realtà la porta alla rovina da un certo punto di vista, fuoriuscendo dalla comunità iper religiosa in cui fa parte e non trovandosi subito immediatamente allineata con i linguaggi visivi e non visivi del mondo esterno. Un personaggio veramente particolare attorno a cui si muove un mondo complesso. Vado verso gli ultimi, questo è Eravamo il suono di Matteo Corradini, romanzo corale con cornice narrativa, tutto ruotante intorno alla musica, tutte le protagoniste sono donne. Alcune, la stragrande maggioranza, cioè il centro della narrazione ruota attorno ad alcune musiciste dell'orchestra di Auschwitz, ma la cornice narrativa è fatta da due ragazzine. Anche di questo vi lascio la recensione. Un romanzo totalmente al femminile, con donne straordinarie perché sono vissute. Ecco, questo è il punto, forse, no? Vado con gli ultimi quattro romanzi. Non potevo non mettere, scusate, lo so che lo cito sempre, ma io ho quattro deboli per questo libro. Emes Charity di Marie-Od Muraille. Lei è una grandissima narratrice di campitura enormi, i suoi personaggi sono tanti, tantissimi di qualsiasi sesso, anche misto. Miss Charity mi interessa particolarmente perché? Perché uno dei pochissimi suoi romanzi scritto in prima persona e perché prende questo personaggio straordinario e ce lo fa vedere come cresce nel tempo, lei, la protagonista è Beatrix Potter, una scrittrice, la scrittrice, che forse ha rivoluzionato e aperto un nuovo campo della letteratura per l'infanzia e quindi non un'eroina, ma insomma, farla scrittrice a fine ottocento facendosi forza di ciò che si è o non si è stati e non poteva mancare qua dentro secondo me. Vado verso la fine, questa ragazzi è un personaggio particolarissimo, eccolo, questo è The Lost Witch, l'evocatrice di Mondi di Melvin Burgess, anche Burgess è un grandissimo costruttore di personaggi, anche alcuni femminili, basti pensare a April, ma la protagonista che c'è qui è davvero straordinaria e la sua modulazione nei tre tempi del romanzo è destabilizzante quasi e quindi volevo che ci fosse anche lei in questa carrellata. Chiudo con due romanzi recenti, entrambi di Camelo Zampa, usciti entrambi da pochissimo tempo, questo appena appena uscito, l'ho appena recensito, vi lascio la recensione nei commenti, Saresti così bella, un romanzo fortemente, fortemente femminista, un romanzo corale, la storia però di due ragazzine qualsiasi, una che segue la dottrina, che le vuole sempre perfettamente bellissime, ma non come potete immaginare, proprio con una esasperazione di finzione pur di apparire in un certo modo, e l'altra Ioni che invece è una ragazzina normale, ecco, che però fa parte di una sezione della società totalmente respinta, infatti questa sezione si chiama Le discutibili, un romanzo corale anche in questo caso, come corale e testa di ferro, in realtà questo è un romanzo che ha appunto due voci, una maschile e una femminile, lei è il fratello, ma il centro è lei, adesso su questo non c'è ombra di dubbio, siamo in un romanzo storico, una protagonista femminile di una famiglia qualsiasi, che però preferisce al matrimonio, fingersi uomo e arruolarsi nelle truppe di Napoleone, partecipare all'assalto di Vienne, insomma una storia piuttosto interessante, soprattutto due personaggi costruiti in maniera straordinaria, quello di lei, veramente anche quello di lui è eccezionale, ma tutta la narrazione si costruisce attorno a lei e quindi ho voluto metterla in questa carrellata. Non so se vi sia piaciuta l'idea di questo video, io non me la son sentita di fare, come dire, un panegirico sulle grandi donne della storia, le grandi donne della storia ci sono e vanno riconosciute sempre non l'otto marzo e volevo invece riconoscere il potere alla letteratura che è quella di aiutarci lettori maschi, maschi innanzitutto e femmine, alla normalità dell'esistenza di creature femminili e di sesso femminile o che scelgono di essere donne, nel loro normale esistere all'interno di una società, questo mi interessava. Ci vediamo la settimana prossima con un video speciale, non annuncio niente però è un video proprio speciale, ci leggiamo naturalmente tutti i giorni su testefiorite.it e ovviamente Instagram, Facebook, TikTok, la newsletter, insomma. Venite ad approfondire qualche argomento con i corsi di Teste Fiorite Lab, adesso sta partendo un corso lunghissimo di 20 ore in cui entreremo in ogni meandro di questo grandissimo mondo, vi aspetto se siete curiosi anche nei corsi. Ciao!